Pirati, siete pronti a saltare con me? E allora avanti, senza ripensamenti, verso i mari del sud! Ragazzi, vado al G Music Awards. Passate per Verona? Tutti a Verona! Comandante, a Verona non ci sta il mare. Io a questo non gli metto le mani addosso perché sono un pirata ed un signore. Festeggia con noi, Wind Music Awards Celebration, a 10 euro, 400 minuti veri e 2 giga. Posso venire anch'io? Ma questo chi è? E' un collega, il Corsaro Nero. E i negozi Wind.